buongiorno buon pomeriggio benvenuti a libri come o bentornati per chi ha già partecipato altri eventi di questa festa del libro della lettura che oggi entra nel vivo domani si chiuderà è una festa del libro della lettura e quindi soprattutto la possibilità di condividere il piacere della lettura la possibilità di incontrare scrittori amati come quello che tra poco sarà su questo palco ma anche altri non perché ci sono scrittori non amati ma altri che non hanno ancora ricevuto un successo e un pubblico come questo questa edizione di libri come quest'anno anche per per una propria intenzione vi offre la possibilità di incontrare scrittori che ancora non sono così affermati e se c'è una un invito che posso farvi è quello a esercitare la massima curiosità sul programma che abbiamo fatto sugli scrittori che abbiamo invitato sono scrittori di grande qualità tutti diventeranno sicuramente in futuro scrittori protagonisti della letteratura europea quest'anno c'è molta attenzione come avete visto alla spagna alla francia alla germania all'inghilterra non vi cito i nomi sarebbe imbarazzante per me scegliere qualcosa di tutto questo programma ma vi invito appunto a cercare a fidarvi anche del programma che è stato fatto a esercitare la curiosità il prezzo del biglietto abbastanza basso quindi il rischio non è proprio catastrofico e quindi insomma possiamo osare da questo punto di vista d'altra parte la festa ha una parola chiave che è abbastanza impegnativa quest'anno che è la parola libertà che attraversa in modo diverso quasi tutti gli incontri o perché si parla di libri che hanno a che fare con la libertà o perché come avete visto nel programma ci sono delle vere e proprie lezioni di libertà è una parola apparentemente semplice in realtà come sapete molto contesa molto persino abusata ma soprattutto minacciata in questo tempo su questo tema in particolare stiamo organizzando una sorprendente serata finale ci sarà domani sera alle 21 in questa sala nel programma cioè nel libretto programma c'è solo una parte degli ospiti di quella sera e soprattutto non c'è lo spirito di quella sera della serata che sarà una sorta di festa della libertà ci saranno dei discorsi di libertà anche a sorpresa dicevo anche in questo caso vi invito a fidarvi e a partecipare se potete naturalmente la parola è al centro di molte di molti libri dicevo ma sostanzialmente al centro dei nostri dei nostri pensieri delle nostre preoccupazioni inutile citare gli scenari che ognuno di noi si porta in mente quando arriva qua anche perché appunto non vorremmo rimuovere non vorremmo in nessun modo sottovalutare l'elemento festoso il piacere che abbiamo incontrandovi qua incontrandoci tra lettori cosa che non è non è sempre così semplice scontata incontrando i scrittori più amati anche agli scrittori più amati abbiamo chiesto di fare qualcosa di particolare di inedito diciamo come sarà l'incontro al quale tutti insieme assisteremo tra poco perciò io voglio salutare intanto l'eccezionale intervistatore per ragioni anche personali ho molta stima per chi fa le interviste stasera abbiamo la possibilità di averne uno molto intelligente acuto è Telmo Pievani che viene qui sarà lui a intrattenervi e intervistare Gianrico Carofiglio buon pomeriggio a tutti grazie grazie per questa presentazione grazie a voi di essere qui così numerosi è la prima volta che mi capita di intervistare già dico caro figlio lo faccio con grande piacere avete visto che le due parole chiave di questo incontro sono metodo e libertà che insomma possono sembrare un ossimoro può essere un po' ossimorico no? però in realtà parleremo molto di scienza di metodo scientifico e faremo un po' di parallelismi con ciò che trovate dentro la versione di Fenoglio e cioè molti riferimenti al metodo investigativo che ha moltissime somiglianze parentele con quello scientifico perché l'esercizio della libertà nella scienza è sotto il segno della ribellione ma è una libertà che ha bisogno di metodo allora entro subito nel merito Gianrico e chiedo questo in questo libro ci sono alcuni passaggi a me ne ho contati due o tre dove tu fai dire al maresciallo Fenoglio che sostanzialmente il suo mestiere che lui racconta a questo ragazzo a Giulio se non ricordo male il nome dice ma io sai ho a che fare col passato devo ricostruire qualcosa che è già successo e non c'è la macchina del tempo non posso tornare indietro non posso fare l'esperimento e questo è molto simile a ciò che succede oggi in tanti campi della scienza noi nella metà del novecento ci eravamo illusi che la scienza potesse trovare delle leggi universali astoriche l'ambizione che aveva anche Albert Einstein e poi ci siamo dovuti arrendere al fatto che noi scienziati che studiamo la natura dobbiamo studiare la sua storicità la sua temporalità io studio l'evoluzione e quindi Savasandir che è così ma lo fanno anche i cosmologi, lo fanno i paleontologi c'è storia ormai dappertutto e la storia è una materia refrattaria una materia difficile, frammentaria e ha bisogno di metodi particolari non puoi usare la deduzione non puoi partire da un grande ombrello teorico e spiegare i fatti ma non puoi nemmeno basarti sull'induzione banale cioè raccogliere indizi e fare una generalizzazione devi usare degli strumenti che noi chiamiamo inferenze verso l'espiegazione migliore la parola è abduzione che è un po' difficile, no? però vuol dire sostanzialmente qualcosa di molto simile a quello che fa Fenoglio per risolvere o molti dei tuoi, delle tue storie portano a un processo di questo tipo quindi lo hai fatto apposta tu mi hai detto che hai spesso dialogato con scienziati lo farai anche tra poco e ti piace molto confrontarti su questo parallelismo tra la scienza e il metodo indiziario grazie, buonasera a tutti sono, come si dice, fuori dalle formalità molto contento di essere ancora qua a parlare di questi temi sono contento, scusate, io ormai per scaramanzia introduco tutti gli incontri raccontando una disavventura accaduta qualche tempo fa perché per fortuna non si ripete perché ogni volta che vai a fare un incontro di questi se hai un filo di conoscibilità c'è chi ti introduce che dice che c'è un uomo che non ha bisogno di presentazioni ma io ho paura quando viene detta questa cosa perché tempo fa è accaduto che il presentatore dicesse che avevamo qui un uomo che non ha bisogno di presentazioni Giancarlo De Cataldo che io non sono caro figlio, potete applaudire comunque, sì Giancarlo De Cataldo, mio grande amico eccellente magistrato ed eccellente scrittore ma non sono io io ho avuto però anche un attimo di brivido quando Telmo Piedani ha iniziato a parlare ha detto sono qui per inter io pensavo di interrogare e sapete ognuno di noi nasconde dentro di sé un bambino insicuro il mio è particolarmente voluminoso però poi ha detto intervistare e mi sono abbastanza tranquillizzato beh sì, il primo punto la questione di partenza ha a che fare con il carattere paradossale della conoscenza con il carattere paradossale del progredire della conoscenza perché il pensiero intuitivo lineare rispetto al progredire all'aumentare della conoscenza individuale e collettiva è quello di dire si riduce lo spazio dell'ignoranza è esattamente il contrario voi dovete e noi dobbiamo pensare alla conoscenza come una sorta di isola in mezzo a un mare più la conoscenza aumenta più aumentano i confini con il territorio di quello che non è conosciuto dell'ignoto e più si pone un problema di agire con estrema circospezione nel affrontare l'ignoto per, come dire, colonizzarlo scoprirlo ed è in questo che c'è l'apparenza dell'ossimoro ma la sostanza metodica del rapporto fra libertà e metodo metodo significa nel libro lo si dice parlando del metodo investigativo ma ci sono somiglianze con il metodo delle scienze sperimentali le diverse scienze sperimentali si dice che bisogna imparare a valorizzare e ad apprezzare l'errore il primo errore che fa chi si occupa di queste cose è pensare che il processo della conoscenza sia investigativa sia scientifica sia un processo lineare per cui hai un'ottima idea e vai a ottenere un risultato verificando quest'ottima idea non funziona così funziona secondo un meccanismo di avanti e indietro di procedere per tentativi laterale cercando di aggirare all'ostacolo che non riesci a demolire o a superare e imparando da ciascun errore che commetti Edison inventore della lampadina ebbe a dire è una cosa ebbe a dire molte cose diciamo era loquace oltre che molto creativo ma disse che la scoperta scientifica e in generale la creatività è un per cento di creatività e il 99 per cento di traspirazione intendeva diciamo di duro lavoro di tentativi e via discorrendo e quando qualcuno gli chiese perché non avesse ceduto nei numerosi si parla di mille tentativi per inventare la lampadina lui disse beh adesso conosco 999 modi per non costruire una lampadina che sembrava una battuta lo è in qualche modo ma ha a che fare con il percorso non lineare della conoscenza nell'indagine questo vale ancora di più perché si muove in un territorio in cui spesso le cose sono sporche spesso le cose sono pericolose hanno a che fare con la parte peggiore che spesso è la più banale ho questa notizia per chi non si è mai occupato di criminale la parte peggiore del comportamento umano è quasi sempre la più banale non per fare citazioni ovvie da libri famosi come quello di Ann Arendt ma perché il mondo è così io ho avuto a che fare con moltissimi omicidi ho trattato le indagini per tantissimi omicidi alcuni particolarmente efferati e la scoperta più sconcertante era è sempre stata la virgolette normalità degli autori di questi reati non nel senso che fosse normale quello che avevano fatto ma il modo normale di funzionare la psicologia tanto simile tanto banale tanto banale tanto simile a quella di noi tutti di essere capaci di cose ripugnanti ma anche di inattese gentilezze il mondo lì fuori lo si dice nella quarta di copertina è un posto pericoloso ma è un posto pericoloso non solo e non tanto perché accadono violenze ma perché esso si sottrae ai nostri tentativi di classificarlo secondo categorie tranquillizzanti però questo rende entusiasmante la ricerca scientifica è l'attività investigativa che a me personalmente manca molto perché ora non lo faccio più quindi lo metto nei libri più di quanto non facessi prima Giannico ti chiedo una cosa proprio sull'ignoranza perché mi interessa molto allora Karl Popper uno dei fondatori della mia disciplina diceva sempre ci sono due tipi di ignoranza c'è un'ignoranza cattiva deleteria che è l'ignoranza di chi non vuol sapere di chi si rifiuta di sapere perché ha delle sue certezze ha un'ideologia ha un modo totalizzante di vedere il mondo e quindi è convinto già di sapere è quello il vero ignorante poi c'è l'ignoranza scientifica di chi invece sa di non sapere quindi sfida continuamente l'ignoto Isaac Newton da vecchio quando gli venne chiesto maestro ma in cosa consiste il metodo scientifico cosa ha fatto lei in tutta la vita lui usa questa bellissima metafora dice io sono stato come un bambino che passeggia lungo una spiaggia osserva i ciottoli ogni tanto sono riuscito a collegare qualche ciottolo con l'altro ho trovato delle regolarità ma sono sempre stato convinto che là fuori si stendeva l'oceano di ciò che non conosco cioè dell'ignoranza che è una consapevolezza molto interessante recentemente mi è capitato di parlarne con ti chiedo cosa ne pensi di questo con il chief editor di Nature che è un'importante forse la più importante rivista scientifica al mondo è quello che decide le carriere degli scienziati pubblicando o meno su Nature lui ha fatto una conferenza dicendo poi sapete Nature è molto selettiva e a volte io mi ritrovo a un certo punto che ho davanti a me dieci lavori scientifici bellissimi e ho spazio soltanto per pubblicarne due o tre e io gli ho chiesto ma allora lì il criterio finale qual è? lui dice guarda io ho un criterio che è il principio di Donald Ransfeld vi ricordate il dimenticabile segretario di Stato durante la ignota esatto e cioè perché Ransfeld durante l'interrogazione in Parlamento alle Camere quando gli hanno chiesto se c'erano o no le armi di distruzione di massa se ne uscì fuori con una sorta di escamotage che nessuno ha capito bene ha detto scusatemi ma al mondo ci sono cose che noi sappiamo di sapere e quindi io ho gli strumenti per sapere che le so e va bene poi ci sono cose che io so di non sapere cioè ho gli strumenti per sapere che non le so e questo nella scienza è molto importante nella scienza noi sappiamo che siamo ignoranti di molte cose sull'universo su quante specie vivono sul pianeta Terra ma di Seranzo ci sono delle situazioni particolari in cui io a volte mi accorgo che non sapevo di non sapere cioè non avevo nemmeno gli strumenti conoscitivi per accorgermi che non sapevo e il chief editor di Nature mi ha detto guarda questo è proprio il criterio con cui io pubblico i miei lavori perché a volte nella scienza tu sai di non sapere io questi non li pubblico perché sono lavori che mi confermano già che io non lo sapevo io le cose che pubblico sono quei lavori straordinari quei lavori di rottura dove improvvisamente uno scienziato si accorge che non sapeva di non sapere voi sicuramente saprete avrete sentito parlare insomma del fatto che oggi i fisici che studiano l'evoluzione dell'universo si sono accorti che fino ad oggi abbiamo studiato il 5-6% della materia e energia che esistono nell'universo tutto il resto sono materie ed energia ed energia oscura ecco quello è il momento in cui capisci e dici non sapevo di non sapere ti è capitato anche nel tuo lavoro questa illuminazione io vorrei ricollegarmi alla citazione che hai fatto per farne una per me leggendaria di Bertrand Russell che usa la parola imbecillità invece di ignoranza ma diciamo si tratta della stessa cosa lui dice uno dei problemi di questo mondo oggi è che le persone intelligenti sono piene di dubbi mentre gli imbecilli hanno soltanto certezze che è un altro modo per dire quella roba là c'è l'ignoranza degli imbecilli cioè di coloro che sono convinti di non avere nulla da imparare di non averne bisogno o di padroneggiare ciò di cui si occupano che è l'ignoranza che porta a tutte le forme di antiscientismi cui stiamo assistendo in questo periodo complicato che produce conseguenze paradossali quando si mischia in maniera indebita la propaganda politica nessuno vuole infierire sul presidente della regione Friuli Venezia Giulia ma c'è una giustizia poetica in quello che è accaduto gli facciamo gli auguri veramente più sinceri di guarire velocemente però esiste una giustizia poetica che qualcuno non sa è un sostenitore della non obbligatorietà dei vaccini e ha preso la varicella da adulto proprio ora gli facciamo gli auguri di guarire velocemente sia ben chiaro ciò detto insomma il senso di quello che accade si nasconde spesso dietro angoli angoli inattesi quindi certo c'è l'ignoranza imbecille dei sicuri di sé e c'è l'ignoranza meravigliosa di quelli che non hanno certezze se non del fatto che c'è un universo da esplorare in tutti i campi non parlo dell'universo della fisica della materia oscura di cui appunto i fisici ovviamente inevitabilmente capiscono ancora molto poco se no che ci farebbero quelli del futuro se noi pensiamo che Einstein ha passato gli ultimi anni della sua vita nel tentativo evidentemente fallito nella idea che ci potesse essere un sapere universale correggimi se sbaglio di rendere compatibili la teoria della relatività con la meccanica quantistica non ci è riuscito perché non è possibile perché si tratta di modelli ancorché eccezionalmente sofisticati sono mappe del mondo e non il mondo questo è scusami l'incursione nei tuoi territori Rumsfeld è diventato a sua insaputa questo capita a taluni politici una sorta di icona della moderna epistemologia perché volendo tirarsi fuori da una situazione politicamente ingarbugliata non essendo proprio un intellettuale raffinato ha detto una cosa particolarmente profonda molto spesso le cose profonde sono preterintenzionali o addirittura colpose come nel caso di Rumsfeld si perché disse che non sapeva di non sapere se c'erano le armi si dovessero scioglierli le braccia perché si era un po' avviluppato ma a noi ci rimane questa frase che è significativa e direi fondamentale è vero la cosa straordinariamente interessante è che se noi pratichiamo questo concetto come concetto di metodo ecco questo è un modo per esercitare tanto per stare al tema e non fare come nei compiti in classe il riferimento è una cosa molto pertinente di coniugare metodo e libertà perché il metodo significa essenzialmente una consapevolezza in tutti i campi il metodo poi è fatto a volte di protocolli ma i protocolli sono ancora una volta modelli sono mappe quello che rimane se si lascia stare il protocollo è la consapevolezza di un contesto la consapevolezza dei limiti e del modo di avere a che fare con i limiti e questo tanto per tornare al mondo delle indagini è una questione fondamentale io ho imparato farò una discesa impicchiata in apparenza ma in realtà è tutt'altro il senso del metodo investigativo che è essenzialmente la pratica consapevole del dubbio una notte in una questura in un'indagine per un omicidio che sembrava tutto chiaro ero di turno io lavoravo alla direzione distrettuale antimafia allora mi chiamano dicendo che c'era stato un omicidio particolarmente spettacolare di sabato sera in una pizzeria della città c'erano tanti ragazzi in questa pizzeria era una pizzeria al taglio erano in piedi all'improvviso entrano due fanno fuoco nel mezzo della folla ma con precisione perché uccidono sul corpo la persona che effettivamente volevano uccidere che era il cugino di un pentito e quindi evidentemente il primo pensiero quello più naturale fu che si trattasse di un omicidio di mafia una ritorsione per la collaborazione con la giustizia infatti chiamarono me e io intervenni e cominciamo a lavorare e il colpo di fortuna apparentemente di quell'indagine è che nella pizzeria fuori servizio c'erano tre giovanissimi allievi agenti di polizia ai quali furono sottoposti erano più disponibili a collaborare degli altri che ovviamente non avevano visto né sentito nulla questi tre tutti e tre separatamente sentiti guardando gli album fotografici dei pregiudicati indicano lo stesso soggetto che guarda caso era esponente del clan nonché diciamo uno dei capi del gruppo di fuoco del clan colpito dalle dichiarazioni del pentito quindi tutto quadrava ma non alla perfezione di più così che io scrivo alle tre di notte il provvedimento di fermo andiamo a prendere questo signore e poi stavamo facendo gli atti per mandarlo in carcere e viene nella stanza in cui stavo completando le ultime cose un anziano ispettore non un raffinato ma una raffinata intelligenza se è chiaro quello che voglio dire e lui mi fa dice quindi ma lo mandiamo in carcere dottore e faccio dovevo andare le caramelle e lui fa sì fa però secondo me non è stato lui io proprio sapete quando hai il ricordo nitido di un gesto che dice cioè abbiamo i tre sì lo so ma per me non è stato lui e ma in base a che non lo so questo non lo so mi si è infisso per sempre nella memoria perché nel giro di venti giorni risultò che non era stato lui risultò inoppugnabilmente tant'è che lo mettemmo fuori cosa che non gli portò bene vi prego di non sorridere perché fu ucciso subito dopo ma dopo per tranquillizzare i cittadini conducemo un'indagine molto più complessa dalla quale riuscimmo a tirar fuori i veri autori dell'omicidio e la causale dell'omicidio che incredibilmente era un'altra non era una causale di mafia era uno che aveva litigato con questo tizio qua per ragioni banali che era in giro con la pistola perché doveva gambizzare un altro per una storia di furti di motorini che l'aveva visto nella pizzeria vi giuro passando con la macchina aveva detto ferma 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 c'è quello era entrato e aveva sparato questo è l'ignoto ignoto cioè una cosa che non te la immagini al di fuori della possibilità di formulare una abduzione accettabile per tornare al linguaggio della filosofia della scienza però bisogna sapere che c'è anche questo il concetto del dubbio ragionevole che sembra solo un concetto processuale che è contenuto nel codice di procedura e che è il concetto su cui si muove nel raccontare le sue storie Fenoglio in questo libro che è un libro ora vorrei dire anche due parole proprio sulla struttura è un concetto non solo giuridico è l'essenza del metodo di cui stavamo parlando questo libro nasceva prendo solo due minuti e poi ti restituisco la parola è nato in modo bizzarro perché nacque da un seminario che io ho fatto all'università qui alla Sapienza sulle tecniche di interrogatorio a quel seminario vennero ad assistere due individui sospetti cioè due esponenti di rilievo della casa editrice in Audi insomma decisamente sospetti che mi sorvegliano anche qua ma insomma sono da qualche parte qui e alla fine del seminario andammo a prenderci un aperitivo e loro mi dicono ma queste cose dobbiamo farci un libro ma chi gli interessa stare ma come no la gente gli interessa di sapere come funziona l'indagine tu devi fare un manuale di tecniche di indagine ma che dite facciamo no 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 facciamo un manuale di tecniche di indagine rivolto però al grande pubblico in cui la tecnica di indagine diventi metafora o comunque sintesi di un metodo che è più generale che è conoscitivo ma che è anche etico ora non fu detto proprio così al terzo bicchiere però il concetto era questo a occhio e croce diciamo vabbè insomma sta di fatto che io mi lascio convincere a firmare il contratto prendo anche l'anticipo no non è vero non presi l'anticipo dissi non lo voglio perché non ero sicuro di me e dopodichè al momento di scrivere mi sono accorto che davvero non pensavo che al pubblico in forma di saggio questo potesse interessare e quindi penso dopo aver a lungo immaginato di fare un saggio di scrivere una specie di pièce teatrale in cui un dialogo più o meno insomma filosofico fra due personaggi che parlano di questo argomento ma anche lì mi sembrava che fosse usare personaggi come fondali privi di spessore e uno che fa lo scrittore questo è un discreto peccato etico e quindi quasi naturalmente a un certo punto Fenoglio il personaggio di Pietro Fenoglio che era comparso in altri due romanzi si è presentato e ha detto guarda sarei io quello che può parlare di queste cose e dal momento in cui ho accettato questo consiglio accadono cose bizzarre nella testa degli scrittori potrei tenervi un'intera serata a raccontarvele da questo momento il libro ha preso vita e il libro contiene un romanzo che è un romanzo di dialogo l'incontro fra Pietro Fenoglio e un ragazzo molto più giovane in circostanze inattese i due diventano amici contiene dei racconti investigativi ma innestato in tutto questo c'era l'originario libro cioè il manuale di tecniche d'indagine che diventa però ora qui soprattutto una riflessione sul metodo quello di cui stiamo parlando questa sera posso prendere proprio spunto dalla storia che hai raccontato questo episodio che ti è capitato allora quella è una storia in cui il delitto in qualche modo è stato un po' serendipico perché questo stava passando per la strada poi ha visto che voleva fare un'altra cosa e anche tu nel tuo percorso di indagine sei partito da un'ipotesi di ricerca quella che noi chiamiamo una domanda di ricerca e poi hai capito che dovevi devi deviare da qualche altra parte pensa che l'anno scorso è successa una cosa abbastanza unica nella storia della scienza diciamo perché l'European Research Council quindi l'ERC europeo che è quello che dà grossi finanziamenti ai migliori ricercatori ha deciso di finanziare lautamente con un sacco di soldi un progetto di ricerca inglese per cercare di capire se esiste un metodo nella serendipità ricordiamo a tutti la serendipità è questo termine che si usa per indicare quel processo affascinante in cui tu anche come scienziato ma non soltanto inizi un percorso di ricerca fai un protocollo di ricerca perché hai una domanda quindi hai un obiettivo a cui vuoi arrivare e durante il processo ti accorgi durante il percorso ti accorgi di scoprire qualcosa di completamente inedito la storia della scienza è piena di questi episodi la penicillina i raggi X il forno a microonde siamo circondati di scoperte serendipiche però fino ad oggi erano state trattate in modo aneddotico cioè singole storie tutti citano Pasteur che diceva il metodo scientifico è il 90% caso ma poi devi essere preparato ad accogliere il caso però nessuno ci aveva mai guardato dentro e quindi adesso per la prima volta invece questi studiosi inglesi ci hanno guardato dentro e stanno scoprendo cose molto interessanti in realtà c'è del metodo nella serendipità quantomeno tu puoi creare un ambiente che permette lo sviluppo della serendipità e una delle caratteristiche ci sono vari criteri che hanno trovato una per esempio è la collaborazione interdisciplinare cioè più ci sono scienziati che parlano lingue diverse e osservano un fenomeno con occhi diversi più la serendipità è favorita e l'altra è quella che gli inglesi chiamano tolleranza all'errore cioè mantenerti sempre focalizzato sulla tua ricerca però essere sempre capace di discostarti non appena un'anomalia ti sta suggerendo qualcosa perché molte volte nella scienza noi non lo sappiamo perché a posteriori non lo vediamo a sapere ma ci sono state un sacco di scoperte serendipiche che non sono state fatte perché lo scienziato si è visto davanti il dato e non è stato capace di interpretarlo c'è una storia bellissima ci metto un minuto che riguarda Darwin che ho contribuito in parte anch'io a scoprire inaspettatamente frugando nei scritti segreti di Darwin si scopre che Darwin verso la fine della sua vita quando stava lavorando sulle piante lavori botanici a un certo punto degli studiosi tedeschi gli mandano dei dati e lui li pubblica nei suoi libri e in questi dati si vede alcuni studiosi gli raccontano come si trasmettono con quali proporzioni si trasmettono da una generazione agli altri caratteri in certi tipi di piante per esempio nella primula nel pisello nei piselli e queste proporzioni sono uno a tre forse ricordate dalla scuola sono esattamente le proporzioni mendeliane cioè praticamente Darwin ha avuto sotto gli occhi un dato fondamentale che sarebbe stata una rivoluzione scientifica pazzesca perché avrebbe collegato la spiegazione evoluzionistica con le leggi dell'eritarietà lo vede lo pubblica ma non lo capisce aveva davanti le leggi di Mendel praticamente che intanto le aveva formulate per conto suo da tutta altra parte e non le vede lì capisci chiaramente che se tu non hai una teoria se non hai un filtro percettivo hai anche il dato davanti a te ma non lo vedi succede questo anche nel tuo mestiere di investigatore nel mio vecchio mestiere certo che succede le soluzioni sono di diverso tipo voglio nel primo dei racconti c'è una cosa proprio di questo genere Fenoglio giovanissimo scopre qualcosa che gli investigatori esperti non avevano visto perché loro erano carichi di sovrastrutture e lui invece era lì a porsi domande apparentemente più più elementari qualche anno fa uno psicologo inglese che fa anche il prestigiatore un tipo eccentrico molto interessante ha condotto una ricerca scientifica sulla fortuna e uno dice che significa ricerca scientifica sulla fortuna la fortuna è un'entità impalpabile e noi abbiamo fatto una ricerca sperimentale sull'esistenza della fortuna cioè voleva rispondere alla domanda esiste una cosa che si chiama fortuna c'è qualcuno che ce l'ha e qualcuno che non ce l'ha è uno degli esperimenti secondo me contiene un ottimo principio di quel metodo che vanno cercando oggi gli scienziati per in qualche modo non disciplinare la serendipità perché se la disciplini la uccidi ma per esporsi il più possibile alla serendipità lui prese due gruppi di persone un gruppo di persone che si dicevano fortunate e un gruppo di persone che si dicevano sfortunate e diede loro un itinerario per le vie di Londra un itinerario prefissato da un punto a un punto secondo una mappa e lungo questo itinerario lasciò delle banconote per terra sotto il marciapiede lungo l'itinerario beh ve la faccio molto breve i fortunati le trovarono tutti e tutte gli sfortunati non le trovarono per niente allora che cosa vuol dire questo? che esiste la fortuna? certo che esiste solo che la fortuna ha un nome più prosaico sono gli occhi aperti sono gli occhi aperti sul mondo e questo riguarda un sacco di ambiti riguarda la politica per esempio perché la cecità di certe situazioni e di certi leader politici per altri aspetti molto bravi è la come posso dire il sugello del loro disastro che abbiamo avuto in questo paese come posso dire qualche esempio recentemente quindi la fortuna sono gli occhi aperti e gli occhi aperti sono il modo per esporsi all'errore in maniera proficua Fenoglio nel libro richiesto nella conversazione dal ragazzo di dare una definizione dell'arte dell'indagine cita Nietzsche una famosa frase di Nietzsche sulla filologia Nietzsche diceva che la filologia è l'arte di leggere lentamente e lui dice che l'indagine è l'arte di osservare lentamente che è un concetto piuttosto denso perché non significa semplicemente osservare lentamente ma vuol dire osservare consapevolmente cioè ponendosi domande su quello che ci circonda che ovviamente è una cosa che uno non può fare sempre perché altrimenti ci sarebbe un sovraccarico di stimoli ma quando stai cercando quando stai investigando nell'investigazione di polizia o nell'investigazione scientifica ecco quello è il momento in cui devi tenere gli occhi aperti quello è il momento in cui devi osservare consapevolmente e chiederti per esempio che cos'è questa frequenza se significa qualche cosa oppure no cioè porti domande a raffica senza preoccuparti del fatto che la maggior parte di queste domande saranno inevitabilmente sbagliate ma voi la sapete la storia della ruota la ruota è diventata oggetto di una tecnologia cioè è stata utilizzata per far muovere i carretti e i carri migliaia di anni dopo la sua scoperta era stata scoperta prima e veniva usata per i giocattoli dei bambini per migliaia di anni gli uomini non hanno pensato al fatto che quell'oggetto che era un giocattolo per bambini poteva trasformare letteralmente il mondo allora in tantissimi casi scusatemi se torno sulla politica nella politica più di altri le soluzioni sono a portata di mano e semplicemente uno non le vede allora conviene esercitarsi a essere fortunati nei più vari campi l'indagine la scienza e l'arte di camminare il mondo che per l'appunto dovrebbe essere la politica prendo la palla al balzo anche in questo caso hai citato la politica le qualità che mancano alla politica io ne aggiungo un'altra che manca tantissimo da un bel po' che è la lungimiranza guardare un po' più in là quelli che una volta si chiamavano statisti quelli che ti dicono ti danno una direzione e questo però vale anche nel metodo scientifico si chiama predizione sempre il Darwin che citavo prima c'è una frase molto bella dei suoi tacquini dove lui dice il metodo scientifico è come un tavolino che sta su su tre gambe una gamba è la descrizione appunto osservare lentamente la consapevolezza analitica descrittiva non basta c'è la spiegazione che è uno slancio rischioso è un'ipotesi sui meccanismi le cause di quello che hai osservato però Darwin dice non basta ancora perché il tavolino stia su ci vuole anche la predizione cioè mi devi dire esattamente o molto precisamente un fenomeno che ancora tu non conosci che non hai osservato che se è corretta la tua spiegazione dovresti riuscire ad osservare e mi pare che Fenoglio qualche volta lo faccia questo è l'anno in cui si celebrano i 150 anni della tavola di Mendeleev la tavola periodica voi sapete la tavola periodica adesso Gianrico citava la ruota che nasce come giocattolo la tavola periodica di Mendeleev nasce per esigenze didattiche per puro caso è un'altra scoperta serendipica cioè Mendeleev vince la cattedra di chimica generale a San Pietroburgo nel 67 non c'è un manuale di chimica e lui decide di scriverlo e gli viene in mente abbiamo scoperto 63 elementi chimici mettiamoli in ordine perché devo spiegarli ai miei ragazzi e nel metterli in ordine scopre che può metterli in ordine per peso atomico le affinità che se lo mettiamo sulle linee verticali ci sono delle proprietà che ricorrono e fa una scoperta straordinaria che è una delle grandi icone della conoscenza insieme con poche altre ma nessuno ricorda mai che Mendeleev facendo tutta la sua tavola ne conosceva soltanto a 63 noi oggi siamo arrivati a 118 e lui facendo tutti questi calcoli vede che ci sono delle caselle vuote cioè dice allora qui dovrebbe esserci un elemento con questo peso atomico con queste caratteristiche cioè la tavola periodica quando viene formulata la prima volta diventa una tavola predittiva tant'è vero che subito dopo che lui l'ha messa insieme i chimici vanno a controllare e trovano tutti gli altri elementi che stavano soltanto nella testa sua che ha fatto questa tavola periodica una predizione fantastica da lì in poi trovano tutti gli altri elementi chimici quindi nella scienza questo è un elemento fondamentale prevedere qualcosa che non esiste succede anche un po' nel metodo che fa io ho scarsissima conoscenza giallistica ma sono cresciuto col tenente Colombo ora il tenente Colombo tu vedi alla fine della puntata ti accorgi che lui già da un certo momento della sua indagine aveva un'ipotesi e tutto quello che ha fatto dopo era per cercare aveva fatto una predizione era per cercare di confermare le sue predizioni o no? Sì sì no è questo che succede nei gialli è il motivo per cui io tendo a non leggerli perché non hanno no per carità sono un passatempo del tutto legittimo però normalmente nei gialli soprattutto in quelli di plot investigativo tipo il tenente Colombo tipo Sherlock Holmes c'è un vizio di fondo che è come un gioco di prestigio lo spettatore non lo vede e cioè che l'investigatore ha ragione per contratto cioè elabora una sequenza predittiva e guarda caso quella sequenza predittiva è quella giusta nel mondo reale non funziona così l'unico romanzo giallo o meglio no non è giusto l'unico uno dei pochi romanzi gialli che abbia colto il senso della complessità il carattere preterintenzionale del risultato investigativo come spesso del risultato scientifico è il nome della rosa è uno dei pochi perché se voi ricordate nel nome della rosa l'investigatore Guglielmo fa un ragionamento di tipo onziano cioè ragione in maniera estremamente rigorosa arriva a una conclusione la conclusione è quella giusta peccato che il percorso sia tutt'altro è quello che succede spessissimo il pericolo mortale in tutte quante le discipline e quelle che hanno conseguenze sulla libertà delle persone ovviamente implicano pericoli più gravi è quello di innamorarsi di se stessi e delle proprie teorie perché a volte le teorie sono belle sono sono belli oggetti da maneggiare ma è bene è fondamentale essere consapevoli della necessità di essere pronti a buttarle via perché può succedere che non siano buone anche se sono belle nella matematica per molti aspetti è diverso però è una questione di cui non mi occuperei non mi occuperei oggi facciamo una considerazione che non c'entra nulla né con la scienza né con l'indagine parliamo un attimo di letteratura sapete che diceva Simenon richiesto di fornire consigli di buona scrittura diceva la scrittura ognuno la fa come crede non so dare consigli però si può dare qualche consiglio sulla riscrittura e lui diceva cercate dopo aver scritto la prima volta in quello che avete scritto le cose che vi piacciono di più quelle più ingegnose quelle più eleganti le parole più ricercate i pensieri apparentemente più sofisticati e tagliate via tutto senza pietà che sembra una cosa paradossale per certi aspetti lo è ma contiene una profondissima verità e cioè che quella roba là è quella in cui si è esercitato il nostro ego il nostro compiacimento l'idea di essere più bravi degli altri ma non sono le cose in cui si dice la verità e questo accade spesso anche in altri campi la teoria ingegnosa che va alla ricerca solo della conferma è spesso la più pericolosa poi naturalmente questo non è una regola assoluta quando questo si racconta nel libro lo faccio dire al personaggio del maresciallo Fenoglio parlando di un magistrato ma quando io facevo quel lavoro e avevo gli uditori giudiziari allora si chiamavano così cioè giovani magistrati in tirocinio gli davo l'incarico che loro trovavano alcuni quasi insopportabile di ragionare essendo in procura quindi l'ufficio che si occupa di indagini e accusa di ragionare sul fascicolo come fossero stati i difensori dell'imputato cioè dovete trovarmi tutti gli elementi a favore dell'indagato dell'imputato e molti proprio facevano un'enorme fatica perché diciamo noi stiamo facendo altro facciamolo fare all'avvocato ma è fin troppo ovvio che se uno è capace di vedere la cosa da un altro punto di vista le eventuali debolezze che possono essere riparate e anche le debolezze che non possono essere riparate che ci costringono se siamo onesti a mettere da parte la teoria diventa eccezionalmente più efficace e questo vale anche per la politica da dove siamo partiti è bravo l'uomo è brava la donna politica capace di praticare con decisione le sue idee le sue convinzioni di vedere le cose dal punto di vista dell'altro anche del suo avversario più acerrimo in primo luogo per praticare l'idea che la verità non sta tutta da una parte ma è distribuita in modo più o meno equo ovviamente ognuno di noi pensa che le sue convinzioni contengano un quantitativo di verità maggiore per diventare molto più forte dialetticamente nella contesa politica è per fare quello che dicevi all'inizio cioè procedere con efficacia predittiva l'efficacia predittiva è di chi ha un pensiero strategico cioè sa vedere i vari aspetti delle questioni ricordate la frase attribuita a De Gasperi ma in realtà era di un predicatore americano del XIX secolo i politici pensano alle prossime elezioni gli statisti pensano alle prossime generazioni il problema è che molti politici oggi pensano al prossimo sondaggio o al prossimo tweet e i like che riceverà allora avere il coraggio di pensare strategicamente cercando di disinteressarsi dell'effetto immediato di quello che si dice e si fa è oggi assieme a un pensiero ricco di contenuti ma i contenuti ce li abbiamo davanti ce li hanno fatti vedere tanto per fare un esempio soltanto ieri i milioni di ragazzi in giro per il mondo cioè esiste un programma bell'escritto si tratta soltanto di trovare il modo di raccontarlo in modo entusiasmante nel momento in cui ci sono i contenuti uno deve cominciare a ragionare appunto sulla predizione e non sul risultato del sondaggio o sul portare tre parlamentari in più o tre consiglieri regionali in più alla prossima elezione ho fiducia che ci avvieremo verso una direzione più proficua in questo senso ti faccio subito la domanda successiva però hai citato la manifestazione di ieri come si si prendi pure intanto faccio la parentesi allora c'è stata la manifestazione di ieri ci sono stati tutti i commenti in questo paese oggi si sta discutendo del fatto che quella ragazza svedese Greta ha la sindrome di Asperger io trovo che sia vergognoso che il tema del dibattito oggi sia il fatto che quella ragazza ha una malattia chiusa la parentesi questo è proprio un diversivo intollerabile vergognoso quindi siate intransigenti per favore io non sono sui social se ci siete voi siate intransigenti chiusa la parentesi vengo a un altro spunto che c'è è citato da Pietro Fenoglio quando il ragazzo gli chiede il metodo e la prendo da questo lato con una citazione di un libro bellissimo che è stato scritto da un grande matematico citabile matematica prima Jacques Adamar che scrisse un libro la psicologia dell'invenzione in campo matematico per rispondere a una domanda molto simile lui era un matematico geniale molto creativo gli hanno chiesto senti fai un libro spiegaci qual è il segreto della tua creatività scientifica lui ovviamente non risponde però usa diverse metafore una mi ha colpito bellissima dice tutti pensano che il mestiere dello scienziato sia come quello di un pittore che va nel suo studio apre la finestra vede il paesaggio e poi lo dipinge sulla sua tela io invece dice Adamar penso che il mestiere dello scienziato creativo sia quello di mettersi nel suo studio dipingere uno o più paesaggi dopo aprire la finestra e cercare di capire dove ci sono corrispondenze o meno tra quello che lui ha disegnato e quello che c'è là fuori può sembrare una differenza di poco conto però pensate ad alcuni episodi bellissimi della storia della scienza ai primi dell'ottocento ci sono alcuni matematici che giocano si mettono a giocare con le geometrie si inventano delle geometrie che non esistono geometrie non euclidee per gioco è un gioco matematico è un gioco combinatorio un secolo dopo si scopre che almeno una di queste geometrie descrive l'universo di Einstein cioè la relatività generale quindi l'universo con la curvatura dello spazio-tempo è pazzesco cioè prima è venuto in mente a qualcuno di fare un gioco matematico e di inventarsi un linguaggio e dopo è stato trovato il contenuto il riferimento semantico di quel linguaggio tant'è che qualcuno dice beh ma allora vuol dire che il nostro cervello c'è già dentro tutto no in realtà il nostro cervello si è evoluto insieme con la natura e quindi ha delle capacità predittive anche per quello Fenoglio spesso fa riferimento a questo adesso mi pare in due passaggi dice un altro metodo può essere questo tu ti fai un modello ti disegni un modello ok che per te è come idealmente dovrebbero essere andate le cose ma non ti innamori di quel modello perché lo usi come simulazione come un modello ideale e poi vai a vedere dove la realtà si discosta cioè non torna e così percepisci l'anomalia c'è un bellissimo racconto anche di Italo Calvino che dice queste cose dice come si fa a fuggire da una fortezza da una prigione tu ti fai come citando il conto di Monte Cristo che mi pare sia citato anche di Dumas dice tu ti immagini dentro la tua testa una fortezza ideale la fortezza perfetta poi confronti la fortezza dove sei rinchiuso e se c'è qualcosa che non torna se c'è uno scostamento lì è il punto in cui forse puoi cercare una via di fuga è così? è un metodo anche questo? sì sicuramente sicuramente lo è l'idea è che ovviamente noi abbiamo bisogno di modelli abbiamo bisogno di schemi non procediamo nel vuoto bisogna essere consapevoli del fatto che lo schema è uno strumento è una cartina perfezionabile è una mappa e non è il territorio e quindi uno poi va sul territorio e vede che c'era un paese che non avevamo immaginato che la strada si discosta o che c'è una foresta che è cresciuta o che è stata abbattuta e via discorrendo e naturalmente bisogna farlo con la mente aperta quello di cui abbiamo parlato finora sempre per citare Einstein c'era quella leggendaria frase di Einstein che diceva le menti sono come i paracadute servono se si aprono ed è effettivamente così cioè uno deve essere lì a guardare pronto a inciampare e cadere c'è la metafora del camminare che è una metafora il camminare e l'equilibrio spesso uno pensa che l'equilibrio sia un valore l'equilibrio è un totale disvalore perché ciò che è in equilibrio è morto sono in equilibrio gli oggetti inanimati gli esseri viventi sono in continuo squilibrio camminare significa perdere a ogni passo l'equilibrio e riconquistarlo significa accettare l'idea che vai avanti soltanto se ti metti a rischio che può essere un rischio minimo un rischio massimo ma l'intelligenza del rischio sta anche nella capacità di maneggiarlo imparare a convivere con l'errore quello che hai detto prima la gestione direi strategica dell'errore significa capire una delle leggi di funzionamento del mondo è che il mondo viene conosciuto per tentativi se uno ha paura è paralizzato in tutti i campi in tutti i campi davvero questo vale in tutti i campi quindi qui abbiamo citato l'investigazione la scienza la politica vale per tutti se uno è paralizzato dall'errore tenderà a muoversi nella sostanza sempre di meno e quindi a non progredire viceversa se uno sa che l'errore è una parte del processo impara a sbagliare velocemente questo lo dice a un certo punto una dote di un buon investigatore è la capacità di sbagliare velocemente e togliere di mezzo gli errori e le esperienze sbagliate senza che queste producano danno che ritornando alla metafora del movimento significa che uno impara a cadere e si rialza senza negare di essere caduto perché uno dei più grandi divorzi dalla realtà catastrofici divorzi dalla realtà è quello di chi cade e da terra dice non sono mai caduto o variante di questo mi hanno messo lo sgambetto che è l'equivalente non mi hanno lasciato lavorare diciamo così e quindi e quindi sì se uno impara a trattare l'errore come una entità cordiale c'è il titolo di un libro una raccolta di scritti di Goethe che io trovo mi piace particolarmente il titolo è gli errori rendono amabili ed è vero perché questo ha a che fare anche con il modo in cui noi ci presentiamo al mondo chi ci risulta insopportabile chi ritiene di non smagliare e naturalmente non ammette mai gli errori provate provate a chiedere a tanti soggetti tanti maschi alfa soprattutto che tipo che cosa faccio un elenco dei tuoi difetti era come Woody Allen un meraviglioso scritto in cui dice io spesso cerco di fare l'elenco dei miei difetti e non riesco mai ad andare oltre il qualche volta dimentica l'ombrello è la stessa cosa tanti ma dimmi qualche difetto e normalmente ti dicono che sono troppo buoni o si fidano troppo degli altri o sono troppo testardi cioè è una roba che a me mi fa andare la mano al calcio della pistola i difetti devono essere veri era una citazione di Goebbels scusate detta da te ma siccome io credo che ci avviamo alla conclusione a me farebbe piacere se non vi dispiace congedarmi da voi dopo aver ringraziato Telmo per questa conversazione che a me è piaciuta molto spero che sia piaciuta anche a voi con due letture una che in qualche modo riassume diverse delle cose che abbiamo detto sono cose che Fenoglio dice alla fine ma non c'è spoiler e poi un'altra invece che per me riassume il senso in qualche modo etico del libro e su quella vi saluterò ne leggo prima una poi l'altra Fenoglio pensò che avrebbe dovuto dirgli qualcosa qualcosa come di fida delle storie in cui chi racconta è il protagonista e l'eroe dunque di fida di quelle che ti ho raccontato io ho fatto del mio meglio per essere obiettivo ma l'obiettività non esiste in questo campo in quale esiste e forse non sarebbe nemmeno una buona cosa chi narra di sé dei propri successi riferisce i fatti come una successione ordinata verso un esito necessario ma non è mai così anche quando siamo molto bravi in qualcosa un lavoro o altro spesso scordiamo ciò che è andato storto o lo attribuiamo alla sfortuna o a qualsiasi causa purché è diversa da noi e di ciò che è andato bene comunque ristrutturiamo il resoconto e ridefiniamo il significato eliminiamo i dubbi i passi falsi le piccole meschinità le ragioni inconfessabili i tentativi non riusciti le intenzioni sbagliate che solo per caso si sono concluse nel modo giusto i successi preterintenzionali gli effetti collaterali che diventano vittorie e questo è molto del metodo ma il senso etico del libro se ce n'è uno è in questo brano con cui concludo è un brano che io ho rubato la letteratura è furto in molti campi il furto è una pessima idea moralmente e diciamo giuridicamente in letteratura il furto dichiarato è invece una pratica vitale quando dico dichiarato intendo dire che si deve sapere che stai rubando è successo in passato che taluni scrittori abbiano riportato interi brani di capolavori del passato e richiesti poi di spiegare questo dettaglio una cosa che ho sentito meravigliosa era sulla devo sempre fare un piccolo sforzo per ricordarla era sulla memoria fotografica inconscia che io la trovo geniale perché devi copiare se sei capace di inventare una roba del genere ecco a parte questo si chiama plagio però ecco e non è invece il furto è parte della letteratura e parte dell'arte in generale questo brano che vi leggo è l'aneddoto poi io l'ho riscritto rubato da un libro scritto anni fa da mia madre è un romanzo si intitolava e si intitola quella mattina a noto conosce la parola caraula disse Giulio all'improvviso mentre Fenoglio riprendeva fiato dopo una serie di affondi caraula in siciliano significa strega nonna una volta mi raccontò una cosa che le era accaduta da bambina era estate lei trascorreva la villeggiatura con la famiglia in una grande casa di campagna non so esattamente dove un pomeriggio era andata a fare un giro e si era imbattuta in un piccolo casolare abbandonato era curiosa e anche se sapeva che poteva essere un'imprudenza era entrata subito non riuscì a vedere nulla perché veniva dalla luce accecante del sole poi i suoi occhi si abituarono alla penombra e si accorse che al centro di quella piccola stanza vuota a meno di un metro da lei c'era un lungo serpente nero arrotolato che la fissava anche lei lo fissò e rimasero a lungo così entrambi immobili alla fine il serpente scivolò via e scomparve in una fessura del muro nonna raccontò l'episodio alla vecchia governante di casa con cettine quella le disse che era stata una prova la rivelazione che lei era una caraula solo le caraule possono guardare negli occhi il serpente senza averne paura tu le assomigli lei diceva di sì e non si riferiva all'aspetto mi piace credere che aveste ragione Fenoglio si passò una mano sul mento la storia delle streghe delle persecuzioni dell'inquisizione mi ha sempre affascinato anche nonna ne parlava spesso secondo lei le streghe erano il simbolo della rivolta femminile avevano rappresentato le avanguardie nella lotta contro il potere dell'uomo i roghi in generale la violenza sulle donne erano stati ed erano la risposta dell'uomo che aveva paura di perdere il predominio sosteneva che le streghe le donne che decidevano di studiare in un mondo che le voleva ignoranti erano sempre state il capro ispiatorio della stupidità e della cattiveria maschile ecco a Giulio piace pensare di assomigliare alla nonna a me piace pensare che il senso di questo libro il senso morale se ce n'è uno è quello del significato di guardare il serpente negli occhi senza abbassare lo sguardo grazie grazie Gian Enrico caro figlio abbiamo parlato di libri di libertà Gian Enrico adesso è disponibile per voi per la firma delle coppie della versione di Fenoglio buon proseguimento del festival grazie a tutti 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 Grazie a tutti